15.000 aretini a letto con l'influenza. Nonostante il bel tempo di questi giorni, siamo in piena epidemia influenzale. Le stime nazionali parlano di oltre 2 milioni e mezzo di italiani a letto con l'influenza e il 40% di loro sono bambini. Si tratta rispetto agli anni passati di un picco epidemico stagionale con valori inferiori. Ma se la vera influenza sembra essere meno aggressiva, i frequenti sbalzi termici con punte di caldo quasi primaverili hanno favorito la circolazione di virus simil-fluenzali con sintomi meno gravi ma comunque fastidiosi, da quelli respiratori a quelli gastrointestinali. Da molti giorni la pressione degli ammalati sulle strutture sanitarie si fa sentire con forza. Gli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri sono impegnati in un autentico tour de force. Nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e domenica si è registrato un aumento di chiamate alla continuità assistenziale del 40% in più. Per i casi più acuti sono stati in pronto soccorso in prima battuta e i riparti ospedaliari poi a far fronte alle richieste. Per i 5 pronto soccorso della provincia retina si registra un aumento medio di accesso negli ultimi 5 giorni che oscilla fra il 25 e il 35%. Le complicazioni più comuni sono quelle legate alle infezioni respiratorie delle polmoniti, particolarmente importanti per soggetti fragili come gli anziani. Sulle quasi 70.000 persone che hanno invece effettuato tra novembre e dicembre la vaccinazione anti-influenzale il virus è stato poco aggressivo e le conseguenze sono state minime.